consapevoli della vostra origine la via della conoscenza attraverso attilio m voce della quiete punto vagliano chiocciola gmail punto com soggetto e la vita è essere ed essere è amore e l'amore è immedesimazione e l'immedesimazione avviene soltanto quando voi diventate consapevoli della vostra origine e della vostra comunanza perché figli cari sappiate che la comunanza che già c'è fra di voi anche se spesso la dimenticate anche se spesso la sottovalutate anche se spesso la cancellate ha sede nell'essere e non nel sentimento e non nel pensiero e non nel vostro porvi con un corpo e con un nome e cognome ma se questo è allora che senso ha stare qui a parlare di corpo di emozione di pensiero ha senso figli adorati ha senso ha senso a tal punto che questo diverrà uno degli argomenti attorno a cui noi vi provocheremo perché il corpo ha le sue esigenze perché il sentimento ha le sue pretese perché il pensiero ha le sue stravaganze e poiché il corpo ha le sue esigenze e poiché l'emozione ha le sue pretese e poiché il pensiero ha le sue stravaganze ecco che lo spirito non può prescindere da ciò che sta fra di voi e da ciò che mettete in comunione fra di voi ma poiché quando si parla dell'amore fra due esseri umani si parla anche di uno specifico rapporto qualcun altro ora vi parlerà di questo e sarà una voce ben nota grazie a tutti